il più grande avversario è il proprio io riusciamo a rovinarci molto facilmente quando non ci lasciamo condurre dall'amore quando le decisioni sono frutto della frustrazione e quando viviamo cercando di convincere noi stessi e gli altri di essere degni di amore gesù ha sofferto e ha dato la vita per noi a noi cristiani è chiesto di dare la vita di donarci per i fratelli la croce che portiamo non viene da dio dobbiamo solo avere il coraggio di prenderla sulle nostre spalle e di seguire gesù cosa vuol dire per te seguire gesù cosa ti impedisce ancora oggi di donarti e aiutare gli altri